amici del calcio europeo bentornati con questa puntata di euro gol un tutto meglio che c'è il calcio internazionale speciale euro 2024 io sono giacomo mastromarino e come sempre ho qui di fianco a me due fedelissimi compagni di viaggio a claudio di natale di roti studio grazie buonasera a tutti ed alessandro spinello del minuti studio alle buonasera a tutti pronti ragazzi per commentare europeo che è imminente ormai ci siamo se parte questa settimana con il torneo continentale si è chiusa ufficialmente la stagione 2023 2024 per i top 5 della brazzi europei adesso ci tuffiamo in clima nazionale con la competizione che ha inizio ufficialmente questo venerdì in germania con la germania protagonista contro la scozia allora partiamo subito a cannone come dicono quelli bravi ad analizzare un po la germania claudio perché insomma nagelsmann ha diramato i suoi convocati che a breve potremo vedere anche in grafica con delle sorprese con delle sorprese che ci sono stati degli esclusi illustri fra tutti penso a brand fra tutti penso a umel se c'è stato anche ciao per una stazione non è entusiasmante con il mira e quindi vediamo qui in grafica c'è qualche sorpresa in queste convocazioni c'è c'è qualcuno che avresti portato tu al posto di la germania innanzitutto ma la sorpresa senza dubbio vedendo anche la stagione è stato proprio l'esclusione di mazumels per per proprio la stagione tecnica che ha fatto ma anche per il carisma l'esperienza di un giocatore che in un trofeo del genere con tante partite anche da dentro fuori poteva essere molto sarebbe stato davvero davvero utile la forza della germania però è senza dubbio nel reparto passivo il reparto passivo ci aggiungono anche le centrocame le centrocame due che si 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 andano davanti alla difesa con un cross la riserva poi anche andrick che ha fatto un esagerio clamoroso con l'everkusen bene la germania parte per come una delle grandi favorite se non la grande favorita inizia per il livello della rosa poi infatti giocano in casa hanno una squadra un bel mix tra i giocatori di esperienza sicuramente la bancazza di un messo come anche ha detto claudio si sentirà tantissimo secondo me e poi ci sono quelli davanti che i virus e avers che secondo me faranno tante belle senza poi anche dimenticarci musiala che dovrebbe fare una stagione clamorosa potrebbe potrebbe essere molto divertente anche nelle partite della germania perché non era nazionale che punta tanto sulla fase difensiva quanto sull'attaccare all'amversario potrebbe essere sì un'arma a doppio taglio però potrebbe anche farci divertire molto ed esattamente questo è il punto ala infatti analisando un pochino anche i punti di forza e i punti di debolezza di questa squadra c'è un grande mix di giovani esperti questo senza senza dubbio pensando un pochino comunque alle caratteristiche anche di questa squadra mi chiedo ci sono alcuni ballottaggi all'interno per esempio l'attaccante noi in questo credo che la germania sia molto simile all'italia nel fatto che da tempo manca un vero e proprio numero 9 tra l'altro non c'è timo verner nei 26 convocati che avrebbe potuto nonostante tutto essere come nella formazione tedesca raccoglio per esempio riguardo al centro avanti dite fuhrkug o rite muller io dico fuhrkug per la stagione che ha fatto per come si è comportato in due partite molto molto importanti e perché è un nome a questa germania con dei tre quartisti anche forti tecnicamente esterni rapini serve un centro avanti di peso un po come è servito al brusia d'or con tre giocatori dietro a fuhrkug a sostegno a sostegno non c'entra avanti di peso di 9 anche tu pensi lo stesso alle io no non ti dico né fuhrkug né muller ma ti dico averse il calzo 9 non è impiegato da terzino non esatto in credo che l'esperimento terzino abbia abbia tolti l'unica nages man ti devo avere perché ha fatto un ottimo stagione quest'anno con l'arsenal ha giocato in quella posizione quindi ormai si è abituato a giocare in quella posizione credo che potrebbe far bene anche poi per il modo di giocare di nages man che non sempre ricerca la prima punta tanto fisica cerca più uno che giochi per la squadra però vi volevo chiedere ragazze perché stavo pensando no anche al netto delle analogie no con l'italia manco centramate da entrambe le squadre ma nages non così come spalletti siede sulla panchina della sua nazionale da meno di un anno no mi chiedo secondo voi può essere questo un fattore determinante perché molti danno la germania la germania come favorita no proprio in casa a suo politico sostegno nei suoi stadi però secondo me oltre al fatto che parte sotto inghilterra francia e portogallo secondo me anche a livello di meccanismi considerato il calcio sofisticato che vuole giocare nages man non è così scontato che 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 faccia bene l'ho visto temere tante volte modello ha giocato una volta a 3 con la difesa 3 ha perso 0 2 contro l'alfre amichevole secondo me può essere un fattore secondo voi il fatto che nages man si ha da quasi poco tempo sulla panchina tedesca si potrebbe essere forse l'unico grande nero di questa nazionale che nella mentevoli ha fatto molto molto male soprattutto in quelle tra autunno la primavera e anche quelle precedenti chiaramente proprio in quel periodo vedevamo nella nello scarso affiatamento con uno dei grandi limiti di questa di questa nazionale l'altro grande limite dalla difesa che secondo me però grazie anche a la stagione che fatto schotterbeck lo stesso raum e l'esperienza di rudiger campione campione d'europa noi anche tornato sui torino al letto dell'errore anche qui una domanda per voi a breve ma è la germania su quello si è si è salvata e avrà un'ottima difesa come un po di consueto quindi tu dici che tu dici che la qualità è talmente alta e anche il fatto che l'angerman si ha da relativamente poco tempo allenatore della della nazionale tedesca non è migliorerà un'attività proprio all'interno dell'europeo questo nazionale una squadra che comunque un mix di giovani ed esperti no abbiamo abbiamo detto è citato comunque grandi nomi in claudio come come neuer e con chi li ha le tutto come vedi il ballottaggio perché nari sman ha dichiarato che il portiere titolare sarà neuer lo ripeti giusto abbiamo parlato l'ultima volta di di cultuato di luni per la finale dicembre sulla fine è tornato il bag e difendere i pani tutto sommato ha avuto anche ragione ancelotti credi che sia corretto anche in questo caso noi a titolare ma è da norma titolare della nazionale alla fine stiamo sempre parlando di migliori portieri della storia del calcio quindi anche puoi andare difficile no a togliergli quella titolarità io sono d'accordo con anche solo secondo me è giusto dare la titolarità noi che abbracca la faccia di capitano se non va durato comunque ritesch tegan che è un grandissimo portiere però di li va per amare di essere nato nello stesso periodo di noia per caso sarebbe stato senza ombre con il titolare della germania vuolta probabilità ma sono d'accordo potrebbe essere l'ultimo grazie a tornino di noia quindi vuole fare salute poi le fai salutare insomma nazionale con con un titolo magari vinto in casa che ne resta anche la ragione per cui tornato toni cross con il centrocampo verosimilmente titolare con con paoli come la vedete come come coppia mediana gioca spesso con 4 2 3 1 la germania meno le ultime uscite la coppa mediana sarà verosimilmente loro mi piace un abbinamento come con con pavlo vince ma ecco se toccherà più probabilmente bundokan mi sbilancio che cross bundokan penso sia la coppia di centrocampo non vedete più ha più avanzato uno da manuari dietro invece sono usi alla versa in quella posizione da ufficio magari partite più difensive o in fulmenti delle partite in cui sarà più necessario difendere però a coppia di centrocampo la vedo vedo poi da titolare di croce di guadagnia con la coppia non ne vedo una più forte in tutto tutto l'europeo sinceramente non sono d'accordo credo che titolari saranno anche anche secondo me la crosse dei prossimi anni con paolo e comunque avrà le sue occasioni secondo me di mettersi in borsa in questo europeo però non lo vedo forse ancora pronto l'auto del giocatore in maniera di servizio così importanti soprattutto anche poi giocando in casa che avrà tanta pressione secondo me la la germania esatto esattamente abbiamo visto tra l'altro anche la pressione come può schiacciare i giocatori giovani abbiamo visto a zero e merì di cui parleremo dopo comunque anche in c'è più il dopo uno mio scoppiettante col pari san germenzi in campionato che ne che c'è più sling vi chiedo ragazzi c'è un giocatore della germania da cui vi aspettate l'espluante questo da questo europeo qualcuno su cui puntate no che secondo voi sarà l'uomo decisivo della germania musiala consacrazione definitiva mi sono sbilanciato ogni volta su di lui ti dico mirz con fenomeno quello per nico da ormai da inizio anno devo sbilanciarmi lo faccio fino in fondo allora mi trovi d'accordo anche questo caso dico mirz nel entro di una stagione che lo ha visto protagonista di 18 gol 20 assist in 49 partite tra bundesliga champion europa league e coppa di germania anche se io mi aspetto vi dico la verità ho espluato da parte di quei giocatori che non sono né veterani dopo non mi aspetto l'europeo della vita da parte di noi che ha già dimostrato tanto nella nella sua decennale punidecenale carriera non mi aspetto tanto dei giovanissimi quanto da quei giocatori intermedi vedi full crew vedi sane uno che ha fatto i sfraccelli con il bayard di monaco che però se voi ci pensate attentamente quante volte è stato decisivo per la germania comunque in competizione internazionale ecco mi immagino tanto da quei giocatori che non sono né veterani e nemmeno giovanissimi perché si può chiedere d'altra parte troppo e quindi mi aspetto comunque un espluato a parte per esempio di disanea con un nome che mi viene in mente e pensando sempre attettamente vi chiedo ragazzi secondo voi concretamente dove può arrivare di deutsche Mannschaft eh ti direi un quarto di finale e semifinale poi metto tutto dipendenti dai raccoppiamenti che riusciranno credo che però l'obiettivo minimo sia la semifinale l'obiettivo minimo penso che potrebbero raggiungerla quindi ti dico la semifinale ma io ti dico anche vedendo questa squadra anche un pelino più avanti la vedi in finale non dico senza problemi anche perché poi gli squadroni e faremo il discorso anche dopo esatto si dovranno incontrare tra loro e non vedo una Germania favorita per esempio con una Francia o Inghilterra adesso però vedo una Germania che può giocarsela con chiunque e può arrivare in finale è interessante se vuoi essere pronostici io faccio un po' il bastione contrario come spesso capita quando arriviamo a questo al momento di fare i pronostici secondo me la Germania va fuori quarti dipenderà dagli abbinamenti a mio caso in questo caso mi prendo la responsabilità della Schitz che proseguirà da queste mie parole però secondo me considerando che parti indietro rispetto a Inghilterra Portogallo e Francia vedo anche una Spagna come comunque un pochino più avanti secondo me non è così scontato che farà un grande grande europeo proprio per il discorso Nanges ma che non è da tanto tempo tanti veterani insomma poi parleremo più in profondità a fine della puntata veramente su chi secondo noi sarà la vincitrice di questo campionato europeo però secondo me la Germania comunque non è così scontato carinissima in finale senza troppi problemi ma vedremo ne parleremo più più avanti colpiamo veloci dall'altra parte della manica per analizzare la situazione della nazionale inglese ora ragazzi ho un pallino su questa squadra avevo detto che avrebbe vinto il Mondiale del 2022 mi sono sbagliato ma perché ha beccato una squadra più forte come la Francia con anche complice l'errore di Kane ecco qui io mi aspetto che sia l'anno degli inglesi vediamo qua le grafiche abbiamo la lista dei convocati del City Guard Southgate insomma una formazione titolare possiamo già immaginarla nella nostra testa vediamo comunque giocatore di spessore internazionale anche in questo caso con dei tagli illustri e anche qui Anziare voglio sapere in questo caso la tua opinione non tanto su Meguiar tutto sommato non è una perdita così grande ma è una squadra l'ha fatto comunque anche il Mondiale del 2018 più che altro l'esclusione di Greenwich sì è quella che ha sorpreso tanto però alla fine devi esserci lì per decidere bene chi importare e chi no è comunque una scelta condivisa da una piccola parte di tifosi inglesi anche perché poi invitarli davanti è piena di pigiornato di Tarenza quindi poi diventa anche difficile andare a scendere chi portarti dietro e che no io personalmente l'avrei portato perché secondo me è un'immagrazione è quello il grandissimo problema al posto di chi adesso non te lo so dire però l'avrei portato tu Claudio come la vedi l'esclusione di Giacomo? abbastanza equivalente rispetto ai giocatori convocati quindi probabilmente come hai detto tu una scelta magari anche per questioni caratteriali di spogliatoio, di equilibrio magari un giocatore che non lo schieri titolare non lo fa neanche magari entrare e non gugna mentre in una competizione si contano i giocatori ma contano anche tanto il clima era giusto noi stessi un po' come è stato proprio per noi per l'Italia nel 2021 vinto tanto col gruppo quindi vedo una scelta corretta da se Southgate ha fatto questo ragionamento quindi non è che ha convocato gente in deciso inferiore ma avete ragione d'altra parte lo stesso che Southgate che Southgate ha esplicato le sue ragioni dietro queste scelte da una parte per Maguire ha detto che di fatto avevano già 9 difensori un decimo con lui sarebbero stati troppi considerando che Alexander Arnold può fare anche il centrale così come il terzino e come detto tu Ale con quella abbondanza di attaccanti talmente tanta che lo stesso Southgate ha detto insomma non ce n'era bisogno nonostante sia un'esclusione è un'esclusione illustre a questo punto topandoci un pochino dentro i miei andri della squadra mi chiedo ha punti deboli questa nazionale che sembra così energica così prezzante d'attacco Claudio secondo te qual è il punto debole di questa squadra? portiere portiere devo trovare proprio un giocatore e anche un reparto in questo caso in cui pecca anche paragonato magari ad altre nazionali dico il portiere il portiere sì poi chiaramente stiamo parlando di giocatori decisamente inferiori agli altri però se prendo le altre top nazionali vedo un po' l'Inghilterra peccare sotto questo sotto questo aspetto io ti dico all'allenatore lo dico davvero Fodermia e lo aveva parlato anche nella pausa di marzo mi ricordo lo dico da quello europeo secondo me Southgate non è adatto per allenare una relazione del genere continuo a pensarla in questo modo non credo che l'Inghilterra probabilmente arriverà anche il finale il semifinale il finale magari potrà anche portarsi alla casa però non credo che sia l'uomo giusto per questa nazionale quindi ti dico l'allenatore io mi lasci senza imparare stavo così per chiederti chi se non lui però non lo diamo già per buonito no ma diciamo che mi trovi d'accordo nel senso che il discorso analogo per la Francia adesso ci arriviamo cioè penso alla finale del 2021 contro l'Italia gli è mancato il coraggio di fare certe scelte o il fatto che abbia fatto delle scelte proprio sbagliate come mettere dei rigoristi i tempi suplementari cosa che non si fa quindi secondo me è un po' lì che è la guada da bilancio insomma su cui si giocherà l'Europeo dell'Inghilterra poi possiamo stare a vedere comunque i singoli l'attacco è scintillante chi vedreste titolare centrocampo per esempio tra Reis ma è fin potenziando un possibile 4-2-1 che dico Reis e alza Alexander Arnold in mediano io sì quindi ad un po' i ditem sì ne riguarda un po' i Beningham che va ad agire alle spalle di McCain quindi in sto modo con l'Italia che ha in mente tante alternative e soprattutto non mi comincia appena neanche la difesa può essere un centrale di spicco come potrebbe essere Rudiger ad esempio nel Roy John più bastoni se vogliamo fare un parallelismo sì però se mi chiedi di confrontare Rudiger e Stolz secondo me non dico che ci sia così tanta differenza però vediamo i parchi attori vero e pro dovevo pensare quasi tutti andrebbero a scegliere Rudiger cioè sì difficilmente uno andrebbe a prendere Stolz che è l'unico che realmente mi convince però adesso non è non è che mi convince un blocco in difesa insomma comunque il reparto di Treni sì comunque questa è una piena interessante comunque mettendosi a 4 comunque fa parte del reparto è l'unico che mi convince appena anche poi sulla sinistra c'è stata c'è tanta difficoltà a vedere chi sarà titolare perché Ciboli non ha fatto una grandissima stagione cioè Shaw che l'ha portato per il roto della cuoca sì comunque hanno United però anche lui non è che mi convince appena forse la difesa è un punto debole di questa nazionale considerando che comunque tu dici che la difesa non è il massimo tu Claudio ha detto che il portiere è un po' il punto debole di questa nazionale insomma è comunque abbastanza delicato nonostante le alternativi e le alternativi in attacco giocatore rivelazione della nazionale inglese se come vuoi io dico Foden anche qui stesso discorso di Musiala forse Foden è già più è già più consacrato io penso che questa anche per l'età è più esperto Foden dico che sarà il suo tonseo sì sì senza dove fare ma io dopo la stagione strepitosa che ha fatto Timico Palmer non sarà titolare davanti probabilmente giocheranno Bellingham con Saka con Saka e Foden partite in corso partite dove l'interno magari nel girone ha già magari l'ultima ha già passato quindi il girone potrebbe giocare titolare potrebbe mettersi in mostra siccome è un giocatore che può dare tanto a questa nazionale soprattutto poi entrando a partita in corso per le sue caratteristiche io dall'altro nei suoi 25 gol dei suoi 12 assist in 53 gare mi vedo costretto a dire Foden anche perché poi se li pensiamo allo storico e mi piace fare questi giochini nell'Europé del 2021 Foden di fatto è stato un fantasma anche perché poi aveva subito un infortunio nella rifinitura prima dell'Italia quindi sostanzialmente comunque oltre ad aver mai visto il campo da titolare se non sbaglio nell'Europa itinerante di tre anni fa di fatto comunque non è stato un protagonista e secondo me mi trovi d'accordo Claudio questo sarà il suo europeo oltre perché o anche perché molto più avanti in un processo di maturazione rispetto a tanti suoi equitari a questo punto rientriamo nel vecchio continente rientriamo nell'Europa insomma continentale e andiamo ad analizzare la grande favorita del torneo la France l'équipe de France anche qui insomma le grafiche ci aiutano adesso a quelle qua facciamo fatica a trovare un flop in questa nazionale o comunque trovare un nome per cui dire no questo non l'avrei portato assolutamente vediamo qui c'è la novità Kanté ragazzi Claudio non so tu che ne pensi ripescato dal calcio da rabbia come la vedi una scelta un po' azzardata sì una scelta più di gruppo secondo me che di tecnica o di merito Kanté è un giocatore che tutti conoscono anche per il suo sorriso per essere sempre l'umiltà per far spogliato oio oltre che per l'umiltà e che per le straordinarie doti atletiche tecniche di un giocatore che abbiamo mirato fino a un paio d'anni fa in Europa la sua scelta però più che per meriti appunto perché le ultime due stagioni è sparito di fatto dai radar europei e dai radar del calcio che conta è una scelta appunto più di spogliatoio non so se Ale tu sei d'accordo no d'accordissimo ma magari conoscendo Rechamp che alla fine ruota con i suoi giocatori potremmo magari trovare la partita in corso dei suoi pochi minuti però sì sono d'accordo puramente una scelta di spogliatoio secondo me sì oltre al fatto che Dechamp comunque mi sembra uno che tenerebbe abbastanza sul sicuro mi sbilancio nel dire che se non fosse stato qualificato per quattro anni avrebbe portato al proprio bene nel senso comunque costante il poco minutaggio tra United e Juventus nelle ultime due stagioni lo avrebbe portato senza ombra di dubbio secondo me e quindi è venuto un pochino andare sul sicuro cantando come giusto anche che sia se volete per il famigerato debito di riconoscenza sui campioni che lo hanno portato comunque sul tetto del mondo nel 2018 quindi insomma comunque per me è una scelta che è tutto sommato ci può stare detto che comunque la Francia è una squadra una squadra straordinaria e proprio per questo vi chiedo e vengo da te quali punti forti potremmo nominarne un sacco come si può battere questa squadra qual è il punto debole di questa nazionale e come si può battere ti dico come ha fatto la Svizzera l'ultimo europeo riuscendo a portare a rigore e poi gli interagiochi complici anche però si disattenzione disattenzione una squadra disunita esatto forse la cosa che manca veramente a questa squadra non è tanto dal punto di vista di giocatori di tattica ma dal punto di vista mentale una squadra che potrebbe pensare di essere troppo superiore rispetto agli altri quindi per care di concentrazione questa potrebbe essere una cosa che potrebbe tradire la Francia perché per il resto punti di questa squadra in campo non ne ha ne vedi dopo un altro Claudio no il fatto di essere determinate partite la proietto già anche dopo gli ottavi e quarti semifinale trovare un'avversaria con cui è abbastanza favorita avere tutta la pressione addosso e come dice Ale andare in difficoltà proprio per quello sì a livello comunque di esperienze i giocatori ne ha giocatori comunque vincenti mentre come abbiamo detto la Germania tanti veterani tanti giovani quindi comunque da mai guamare qui comunque ha una squadra trans generazionale esattamente esattamente manca il pallone l'ex pallone benzemane comunque i giocatori sostanzialmente li ha credo che anche in questo caso si farà molto su in primo luogo la forza mentale del gruppo cioè quanto crederanno di aver già vinto con quanta superbia scenderanno in campo hai giustamente citato la partita degli ultimi quarti di finale degli ultimi ottavi di finale Euro 2021 contro la Svizzera e dall'altra parte dei scelgimenti del Champ che proprio in quella partita comunque sbagliò alcune sostituzioni al punto di avere un battibecco con Pogba al termine del primo tempo e che poi costeranno alla Francia la qualificazione quindi in questo caso vedo comunque il ruolo del CT fondamentale nelle sorti di questa squadra per cui vi chiedo a questo punto c'è un giocatore da cui non il solito un bappé chiaramente ma vero attaccate una squadra comunque la Francia che ha avuto il secondo miglior attacco delle qualificazioni europee 29 reti in 8 gare c'è qualche giocatore da cui vi aspettate un grandissimo europeo tra le file dei blu io dico io dico De Ornandez che rinunce da una stagione leggermente opaca sì in parte sotto tono rispetto ai free standard del Milan avrà la titolarità secondo me certa su quella fascia complice anche l'assenza del fratello e potrebbe essere davvero il suo europeo per riuscire a rendere come l'abbiamo visto in queste stagioni al Milan anche con la maglia della Francia in maniera straordinaria star ripanta anche su quella fascia io ho un debole per questo giocatore e ti dico Camavinga secondo me potrebbe prendersi la titolarità in questa Francia lo vedi nei due di centrocampo sì sì se si lo vedi in quella posizione anche perché appunto sulla sinistra Ancelotti l'ha schierato sì magari qualche partita ancora però c'è torna difficile andare a togliere l'imposto io lo vedi nei due di centrocampo magari anche a fianco di Choumini a formare la propria del Real secondo me il centrocampista completissimo fase infensiva fase offensiva ti fa tutto il lavoro che serve in mezzo al campo secondo me è il nuovo che potrebbe dare quell'equilibrio che forse è mancato anche magari nella finale del mondiale contro l'argentino e la Francia ti dico Camavinga ma io comunque dirci innanzitutto mi aspetto un grande europeo da parte di Magno che sarà di fatto la sua prima vera apparizione da titolare e c'è una competizione comunque con la Francia visto che agli ultimi mondiali in Catà il solare era ancora un voglio ris quindi mi aspetto un grande europeo anche lui citato Ternandez parliamo di milanisti Magnan sta giocando così così ho regalato anche qualche papera nell'ultima parte del campionato almeno da gennaio in poi quindi comunque mi aspetto un grande europeo da parte del portiere del Milan mi aspetto un grande europeo anche da parte l'abbiamo in grafica di Marco Sturam quantomeno per capire se sarà in grado di replicare quanto fatto di Magna e di Razzurra il prossimo agente non sarà titolare perché siamo d'accordo con il fatto che abbiamo parlato di quanto tradizionalista sia in un certo senso dei sciampi crediamo che giocherà G.U. però voglio proprio vedere l'apporto comunque di Marco Sturam a questa squadra almeno a partite in corso e infine Barcolalo non ho avuto tanto su Zairi Emery perché ha avuto una fase di stagione calante perché è un po' schiacciato da depressioni perché non può addossare a un class del 2006 se non è meglio le responsabilità comunque o i meriti io ho in onore di una nazionale intera però ecco poi ha anche tanta incorrenza davanti a Zairi esattamente però da parte di Barcolalo comunque mi aspetto un europeo di strappi insomma di fiammate di belle giocate e che sia comunque dentro tante tante azioni offensive della Francia anche soprattutto negli ultimi negli ultimi senici metri quindi quelli di colui a questo punto non ci resta che fare una piccola panoramica di cosa ci aspettiamo da questa squadra del tabellone cioè fin dove arriverà la squadra di Deschamps qua penso che non dire nulla di originale però io vedo senza dubbio almeno in semifinale vedendo il tabellone probabilmente proprio con l'Inghilterra che abbiamo citato prima potrebbe potrebbe essere questo una semifinale siamo tutti d'accordo sì il minimo penso che sia la semifinale sia per obiettivi sia appunto per la qualità della rosa allora diciamo semifinale insomma per una squadra per tenerci stretti esatto per tenerci stretti di fatto ha disputato comunque finale nel 2016 finale nel 2018 nel 2021 è uscita comunque contro la Sizzera e poi finale del 2022 ma anche i precedenti comunque dicono dicono Francia altrimenti altra cosa siamo Pirenei andiamo ad analizzare la Spagna ragazzi per una squadra che io definisco illegibile in certi sensi non so che cosa aspettavi una squadra tra polma di talento se non sbaglio leggevo anche la migliore squadra delle qualificazioni per precisione dei passaggi 90,1% non è una novità però comunque una squadra che nonostante il ricambio generazionale ha sformato giocatori di un talento immane oltre che soprattutto da una grande grande tecnica nonostante la perdita di Gabi vediamo qui convocati abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta ci sono state delle esclusioni illustre anche in questo caso fuori di Orente Kubarsia Alex Garcia come giudici queste questioni avresti portato Kubarsia onestamente ma allora ti dico onestamente sì l'avrei portato ma comprendo anche la decisione di non portarlo nel senso hai già una squadra tanto giovane lui ha dimostrato comunque di essere un ottimo difensore di grandissima prospettiva aggiungere ancora un altro giovane soprattutto in quella zona di campo che secondo me è la zona della scelta è veramente forse la zona più importante del campo comprendo la scelta di non portarlo io l'avrei portato dietro anche solamente per iniziare a metterlo all'interno proprio del gruppo a metterlo all'interno di palcoscenici molto importanti però ripeto condivido la sua decisione c'è proprio un altro seguito questo clima nel cloud di merito dei cosi illustri come riguarda le convocazioni della spagna sono d'accordo con il ct e allora andiamo a analizzare un attimino questa squadra perché ecco il modulo del 433 della fuente non si è scostato da quello anche durante il percorso di qualificazione anche nelle ultime uscite la domanda la domanda che mi faccio anche con questo dato falso neve non falso neve morata sì morata noia ma il titolare come vedi l'assetto di questa squadra l'assetto come hai detto di sicuro sarà il 433 in generale di forza anche il punto di forza poi come di consueto ormai negli ultimi 20 anni la spagna sarà secondo me il centrocampo in generale però tanti vedono la spagna al pari o quasi nelle varie Inghilterra Germania Francia Portugallo se io vado un po' controcorrenti ti dico che non sono convintissimo da questa squadra a partire da una difesa che per nomi e proprio come reparto non mi dà tante garanzie un attacco che ha giocatori di talento enorme Ferran Torres Yamal Olmo ma giocatori che spesso anche poco concreti al di là di Yamal che è uscito quest'anno giocatori che spesso spariscono all'interno delle partite all'interno delle stesse competizioni quindi sinceramente io al di là del centrocampo non vedo una spagna fortissima come si descrive ma vedi proprio un punto debole a livello di reparto reparto come portiere come hai detto un primo reparto quello difensivo probabilmente giocherà Lenormand la Pol Centrani anche Nacio comunque forse anche Nacio è richiamato la porta tra l'altro anche un soggetto di polizia esatto Grimaldo come terzino che ha giocato tutto l'anno esterno alto anche lì non sono convintissima delle sue doti proprio difensive quindi se dovessi individuare un reparto proprio quello difensivo che non mi lascia pienamente convinto per il resto però appunto ripeto una squadra si fortissima ma non al pari scuro delle prime 4-5 d'Europa quale non è vedi io no sono d'accordo con quello che hai detto una squadra indecifrabile secondo me è veramente difficile capire anche dove semplicemente potrebbe arrivare questa Spagna è una squadra non dico totalmente nuova però tanti giocatori sono alla loro prima grande partecipazione la loro prima grande esperienza e quindi anche lì è difficile capire come leggeranno e poi si sono d'accordo con quello che ha detto il punto forte sarà sicuramente il centrocampo comunque il possesso palla della Spagna vedo anche l'attacco comunque come un ottimo reparto soprattutto sulle fasce perché al fine di Yamal Olmo c'è anche Nico Williams c'è anche sempre l'ozione Uyarsabal quindi sulle fasce la Spagna è forte la difesa sì sarà un po' il punto debole sulle vede questa nazionale poi gli sarà bene compito di riuscire poi a bilanciare quello che è la fase offensiva e quello che è la fase esatto io della fuente lo conosco poco almeno da un punto di vista tattico quindi sarà fondamentale comunque il suo ruolo nell'amalgamare di tutti questi talenti c'è da dire che forse la Spagna è la nazionale che più di tutte magari ha tra virgolette il suo offerto di cambio generazionale nel senso che ha tante nuità no? mi ricordo già nel 2021 lui si richiede le convocazioni aveva tirato in ballo i giocatori che gli stessi infosi ma la pena sapevano chi fosse cioè tanto per estremizzare in questo caso è vero ci sarà capitata Morata a guidare comunque il centro dell'attacco tra tanti giocatori che saranno alla loro prima apparizione o finchè in una competizione quindi in un certo senso è indecifrabile proprio da quel punto di vista non sai il rendimento di alcuni sia perché è la loro prima volta o perché non so se tu Claudio avete citato Grimaldo un giocatore che è stato strabiliante con il Dio Cusero quest'anno però ha giocato in un altro ruolo e lì un conto volutare gli Arnandez in Grimaldo in una potenzione più offensiva l'altro invece volutare anche difensivamente parlando soprattutto i giocatori di gambo quindi questa sarà la prima incognita da chi ne ha aspettato un grande europeo se dovesse scegliere un giocatore da questa rosa di 26 che porta della fuente chi direste Rodri senza dubbio per l'esperienza per la qualità perché è il punto forte della Spagna è proprio il centro campo quindi leader sotto tutti gli aspetti quindi se la Spagna andrà avanti secondo me lo dovrà una buona parte per il suo centrocampo ma soprattutto grazie a Rodri grazie a Rodri rimango anche io a centrocampo però Timico Fermini che secondo me piano piano avanzando con le partite riuscirà a scalzare il posto titolare a Fabio Ruiz perché dovrebbe essere lui Sì Pianni Pedri esatto Fabio Nepedri in mezzo a con Rodri a completare il centrocampo credo che abbia qualcosa in più rispetto a Fabio soprattutto da un punto di vista offensivo esatto l'inserimento col Barça segna sempre sui inserimenti potrebbe essere un'arma in più anche per la Spagna e poi c'è stata con la manovra esatto è stata anche più unimentale diciamo così più tattico esatto credo che con il passare il tempo riuscirà ad essere titolare è interessante con i miei spunti interessanti vi dico Yamato ha una ragione molto semplice perché ha battuto ogni record di precocità ha segnato due gole tra assist nelle ultime sette uscite con la Spagna e quindi dico che proprio considerando che sarà la sua prima apparizione con la Roffa in una competizione ufficiale con la Sala Nazionale immagino che possa essere una sorpresa per le altre difese abbiamo visto i Champions League contro l'Apoli per esempio insomma è comunque un giocatore difficile da tenere molto un bappiano se vogliamo utilizzare questo neologismo quindi comunque vedo in lui un punto cardine di questa di questa nazionale e di una squadra che comunque ha segnato 13 gol nelle ultime due partite leggevo comunque insomma 13 gol segnati 5 subiti in 4 amichevoli nel 2024 quindi una squadra che a livello offensivo comunque ha tanto da dire che ha prodotto e continuerà a produrre tantissimo piccolo pronostico su dove vedete questa nazionale tu Claudio sei stato un po' scello sì io resto coerente un po' con il mio parere sulla Spagna di come potrebbe essere inventata ai quarti ai quarti dici? ma io sono da qua un corretto cloud dico anch'io quarti contando che poi un quarto potrebbe essere Spagna-Germania e quindi questo potrebbe essere una parità molto complicata per la Spagna e un biglietto alla Germania in questo ipotetico quarto un pochettino per avanti quindi anche un quarto di finale ah quindi sta un pochino più scettici su Claudio lo sapevo su tele pensavo che ti sbilanciassi sbilanciassi più ma ci sta subito io lo vedo più avanti voglio dare fiducia a spazio per i giovani non è semplicemente retorica ma credo comunque in questa nazionale credo nella qualità di questi giocatori sono convinto che avrebbe potuto fare di più anche i mondiali in Qatar se soltanto fosse stato un pochino più ciniche ciniche abbiamo tutti negli occhi la perfetta col Marocco un corso in giro palla continuo a limite dell'aria c'era ma importa per i numeri della qualificazione europea europea per il fatto che c'è un giocatore esperto con la morata a guidare l'attacco come detto poco fa io voglio dare fiducia a questi questi 11 a questa rosa a questi 26 e credo che arriveranno in semifinale ancora Spagna la dota le prime 4 d'Europa con Arcande già nel 2021 e poi da lì si vedranno non mi sbilagio ulteriormente però è veramente difficile dire però comunque do fiducia alla qualità insomma all'aspetto qualitativo di questa rosa abbiamo dei vicini di casa degli spagnoli con il Portogallo che insomma ha già dichiarazione di Ronaldo vogliamo replicare l'impresa del 2016 anche lui insomma possiamo discutere se l'aveste convocato dopo l'esperienza dopo l'esperienza in Arabia ce l'abbiamo qua i convocati e qua grazie all'aiuto delle grafiche possiamo vedere anche qui c'è l'imbarazzo della scelta per scegliere l'undici titolare ma partiamo proprio dal signore sulla sinistra Ronaldo dovreste portato assolutamente per il gruppo per l'esperienza per tutto sì ma si può essere titolare sarà titolare davanti sì non farà il bravo senza due semplicissimi motivi è Cristiano Ronaldo non può lasciarlo fuori l'alternativa cosa allora Ramos che quest'anno al Perino non ha convito per nulla 2 più 2 fa Ronaldo titolare poi magari non inizierà soprattutto le partite da Gione secondo me dice che lo tiene sì sì lo vedo come titolare subito irremovibile lo vedo magari dal sessantesimo le prime partite del girone ma poi se sa in forma se macinerà gol come ha fatto pur sempre in Arabia quest'anno nelle partite in cui Portogallo giocherà si giocherà tanto contro squadre più forti anche lo vedo titolare anche perché scalpiterà per certi paico scenici che sono poi i suoi paico scenici come ci ha abituato restano in corso della sua carriera analizzando un attimino appunto la squadra punti di forza e debolezza di questo Portogallo ha le punti di forza immagino l'attacco l'attacco sicuramente ma ti dico la completezza della Rosa perché secondo me è poco sotto a livello della Francia la Francia perché va bene di un livello superiore rispetto a tutto anche per lo storico se vuoi però comunque esatto è un interagio subito sotto ti mette il Portogallo secondo me è una squadra completa in tutti i reparti punti di ebole onestamente non te ne trovo neanche il portiere perché negli altri anni si parlava di Uri Patrisio quest'anno con Deco Costa hanno trovato un grandissimo portiere il punto di forza sì sarà sicuramente l'attacco ma ti dico tutta la fase offensiva in generale quindi anche poi con la partecipazione dei terzini il Portogallo parte secondo me per essere la favorita un esempio di bilancio la favorita anche più della Francia Claudio la favorita no però condivido ogni parola di Ale nel senso che è una squadra davvero forte in tutti i reparti magari in Inghilterra abbiamo trovato qualche pecca nella difesa qui no qui secondo me è forte appunto dall'1 all'11 diciamo tutti gli 11 titolari ma con tantissime riserve anche di altissimo livello anche la difesa la vedo come un bel reparto completo competitivo e anche collaudato perché sono tutti giocatori esperti l'unico che viene su quanto gli esterni soprattutto saranno in grado di sacrificarsi e ad aiutare la squadra ma in una competizione così importante non penso che ci saranno prime donne ci saranno malumori anche su chi verrà scelto perché tanti campioni ovviamente anche in attacco verranno esclusi partire magari proprio come dicevo prima dalle prime partite di Ronaldo credo che l'importanza di un impegno del genere e il fatto di partire di sicuro tra le prime cinque supererà i possibili malumori e le difficoltà avete talmente ragione che voglio venire in vostro supporto anche con i dati il portogallo ha conquistato 30 punti ha fatto il pienone 10 partite su 10 delle qualificazioni vinte 36 gol segnati soltanto le subiti e proprio in merito alla competenza delle parti vi dico anche quest'altro dato perché è in cima alle classifiche delle qualificazioni europee anche per clean sheet 9 e tini totali 193 quindi una squadra che non soltanto produce abbiamo parlato tanto dei reparti o pensieri di tutte le nazionali che abbiamo eleccato sinora ma c'è tanta tanta difesa comunque una solida difesa a proteggere la porta di Salvi Patricio credo di Ococosta a questo punto vi chiedo c'è un giocatore da cui ti aspettate l'europeo con la E-maius con il giocatore rivelazione che puoi pensarci bene come ha detto tu Claudio in effetti prime donne non ce ne sono vedo anche una squadra ben disposta comunque anche a sacrificarsi per lo spirito del gruppo però comunque vedo una grande squadra con giocatori di rampa di lancio ma perdendone uno proprio un giocatore che secondo voi farà la differenza se te ne devo dire solamente uno è un po' difficile ti dico però Vitigna se il centrocampista a me piace tantissimo quest'anno a pari ha fatto un'ottima ha fatto un'ottima stagione 9 gol 5 assist in 46 partite grazie la qualità probabilmente giocherà nei due davanti alla difesa al fianco di Paligna è un giocatore può dare qualcosa in più se può tenere un altro ti dico anche Gonzalo in una sola dietro in difesa se poi scalzerà il posto Pepe secondo me sì 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 al titolare quindi un veterano lo teniamo esatto un veterano non c'è già scansare il Pepe tu claro e poi Cancelo Cancelo anche col Portogallo non ha mai riso come ci si aspettava può essere europeo della della smolta con la sua carriera con i lusitani e vedo anche per come è disposto al Portogallo un Cancelo che avrà possibilità anche di spingere di sprigionare la sua tecnica i suoi cavalli in fase offensiva quindi dico lui io sono innamorato di Mitigna in commenteale quindi comunque mi aspetto da lui un europeo da protagonista dovesse dire un altro nome di laceresso Bruno Fernandes non tanto per il calibro del giocatore che già conosciamo comunque ma perché da trascinatore dello United e anche da insomma capri spiatorio se vogliamo che si sta portando anche le fatiche di una squadra che stanno depolando da diverse stagioni in europeo insomma anche per scacciare via un po' i brutti pensieri dell'Orny da stagione che ha fatto con il United in Premier League ecco quindi anche perché mi sembra il giocatore un po' più equilibratore non so Giambro che non è più progiunatore se volete o comunque insomma più difensivo ecco più di filtro rispetto a Bernardo Silva che è uno che viene tanto incontro che si abbassa molto però comunque mi aspetto un ottimo europeo da parte sua non il giocatore da copertina questo no per l'aspetto comunque un ottimo torneo continentale anche perché la copertina probabilmente se la prenderà Ronaldo se la prenderà probabilmente Ronaldo più andranno avanti più ci sarà comunque Ronaldo al centro della scena insomma vediamo e vi chiedo in Portogallo lo provare lo vedi come favorito in finale io sì lo vedo in finale in Portogallo sì 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 ma io dico che a parte le altre che abbiamo citato parte da favorito con tutte con tutte le altre in un ipotetico quarto con una delle altre quattro se quattro cinque squadre che abbiamo parlato se la può giocare senza dubbio dovessi dire una fase dove arriva tranquillamente ai quarti quello senza dubbio poi dipenderà un po' dalle avversarie io sono molto primicino a Dade come pensiero nel senso che adesso poi ne parliamo in finale del prosticone gigante di tutte le tutte le squadre tutti i gironi in senso della fase eliminatoria in poi però ecco la vedo comunque possibile potenziale finalista insieme insieme alla faccia però comunque adesso lo vediamo lo vediamo nel dettaglio però per numeri comunque per completezza di reparti quella che più si avvicina sono gli stagani favoriti anche da ebookmaker insomma la vedo comunque lì la vedo lì il 14 luglio a giocarsi la finalissima dell'Olimpia Stadion partiamo ad analizzare anche un po' le outsider ho parlato delle 5 principali nazionali voglio partire dall'Olanda ragazzi di una squadra che sta perdendo pezzi prima degli Omb e copminers però è saltato e superiti pesanti queste come la vedete la nazionale degli Oland indietro di sicuro molto indietro rispetto alle squadre citate anche qui vedendo un ottavo un quarto contro queste squadre partirebbe di sicuro la sfavorita introdotte secondo me secondo me no io la vedo queste qua che abbiamo citato decisamente inferiore a parte forse la Spagna ecco che non mi convince totalmente però contro le altre può tranquillamente giocarsela ma la vedo un gradino sotto allora ragazzi comunque la formazione dell'It Van Dijk a che possibile difesa a tre Dufri Slender Blindo Schauten Van de Ven Madsen sull'esterno Kakpo de Paisi Monster non è comunque la squadra poi sono d'accordo che manca l'intervinzione lì in mezzo con quel mediano il cervello della squadra soprattutto come la vedi Ale ma io la vedo bene l'esterno inter-Olanda secondo me è più avanti rispetto alla Spagna doveva essere c'era l'Olanda Spagna io vedo lo stesso piano io vedo un anno più avanti che potrebbe anche metterla adesso sono tutti ipoteticamente potrebbe metterla su un fisico e potrebbe fare la differenza perché è una squadra molto forte fisicamente tra l'argentina fa la difesa di questo punto forte anche perché ha dei nomi da dietro in difesa che sono dei grandissimi giocatori fa sicuramente appunto della difesa sul punto forte con Cookmeiner se l'avrei vista anche non dico tra le favorite però comunque l'avrei vista una squadra che avrebbe avuto poco da imitare rispetto anche a una Germania sarebbe stata completa per Cookmeiner deve andarlo a sostituire e lui difficilmente lo sostituisce De Jong comunque non giocava ad aprile che entrava nel fortuna non ha recuperato quindi De Jong più che perdita si può dire comunque avevi già previsto che non ci sarebbe stato in questo in questo europeo c'è Fermani anche in mezzo al campo che può giocare a fianco di Renders che quest'anno nel PSV è stato fondamentale su altre quarti poi volendo spostare capoprua punta alzare Frippong e giocare su altre quarti per far giocare da un prestitolare è questo come primo appunto esatto è una squadra c'è anche Maren che può essere un gioia di partita in corso è una squadra che ha tante alternative secondo me che mixa bene il fisico anche poi ha di fatto a fantasie velocitari davanti ma la domanda che vi faccio io è perché non c'è Tirze in questa in questa rosa dovremmo chiedere la tua domanda in limite su questo ne sono poco d'accordo forse l'unico motivo è smaccata con lo canzioni fatto che comunque la domanda a parte De Pai e Weggorst che si spartiranno il posto da centranti gli altri sono tutti giocatori abbastanza giovani poco in poca esperienza penso a Simons anche nel Gappo male non sono giocatori espertissimi hanno giocato tanti in queste partite ad essere un giocatore che non ha di fatto mai giocato in Europa poteva essere una problematica però per le stagioni che ha fatto per la qualità per quello che ha messo in mostra io gli avrei dato non solo la provocazione ma probabilmente anche una maglia del secco ma d'attuale prima a soccuparsi non aggiungi un altro giovane un reparto delicato per quello difensivo ma in attacco considerando che comunque ti manca Coppe Miners che ti gioca negli ultimi 30 metri a questo punto adesso non so se deciderà comunque di sostituirlo o chi però sul Zinze un pensierino in più l'avrei fatto ma l'avrei convocato anche perché ti avrebbe dato qualcosa in più di fantasia davanti quando è che l'oranda di fantasia è una tanta perché appunto De Pai Ciamissimus Capo poi un giocatore convenzirsi che oltre alla fantasia ti mette anche quella fisicità che ti fa tanta differenza perché l'abbè messo quest'anno in sera esatto a livello fisico è un giocatore straribante ti avrei potuto fare quella differenza ma io l'avrei convocato assolutamente e che punti debole vedete in questa nazionale se volete indicare proprio un giocatore nello specifico l'anello debole di questa squadra io un più con l'anello debole proprio il centrocampo con De Ronco Miners Renders sarebbe stato un gran bel centrocampo così lo vedo un po' un po' debole anche come i nomi mentre la difesa come ho detto all'inizio qual è una pallone d'oro la difesa la difesa probabilmente beh uscite l'avrebbe meritato di mister però non tocchiamo come riparto non facciamo polemiche senza dubbio punto forte come reparto quello difensivo non sarà facile fare gol a quest'olanda però per il resto non la vedo come detto al pari delle asi quello nemmeno io non cerco a livello delle 5 che abbiamo menzionato fino a questo momento però comunque fino ai quarti di finale mi lanciano già io ce la vedo Ale ti voglio chiedere il punto debole ma so già che cosa mi stai per dire cioè Comand no 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 estremamente no punto debole ti dico la fascia di sinistra perché a blind che non mi convince tanto alto in quella posizione comunque da una parte tu hai flimpone che ti assicurano spinta ti assicurano tanto davanti hai da una parte un blind che va verso il finire della carriera non so quanto possa dare il pass esatto non so quanto possa dare a questa banda l'alternativa mazzini che si ha fatto un'ottima stagione con il Dortmund ma ha dimostrato di peccare di concentrazione per gran parte della partita e in un europeo tu non puoi permettertelo quindi la fascia di stessa non mi convince ero fuori 100% esatto e con bel jolly esatto e che esplonendo poi anche Anzano magari sulla posizione si si ecco un po' la danza sardata il faulare è un po' a destra però difficilmente come a mano rinuncia ad Afris potrebbe pensare di alzare Fimpong contando che appunto non c'è Comayers che era il titolare mi lungo e dietro una punta penso perché dà più copertura dopo di smagare no è proprio perché può sfruttarlo per la sua fisicità che è appunto il punto forte veramente forte dell'Olanda in effetti si questo dato De Pai in effetti commette in serie difficoltà le difese avversarie dove arriva questa squadra nel Tamerone ma io come ho detto pensando agli ottavi rispetto pensando agli ottavi penso possa passare facilmente l'Olanda al netto di un girone sottotono contro le altre non vedo grande speranza quindi secondo me appena dovesse incontrare una delle top sarebbe il suo destino sarebbe segnato però anche qui ai quarti potrebbe tranquillamente arrivare arrivare con un ottavo in cui partirebbe favorita Quale? Ma io mi sono sbilanciato tanto su questa nazionale ho parlato benissimo sarei anche ipocrita a non mettere un po' più avanti ti dico semifinale perché c'è sempre una sorpresa in questo tegno le ultime ore ti piacite in effetti c'è sempre stata una sorpresa ma è quest'anno l'Olanda per quanto comunque il nome sia importante che ha preso parlato dell'Olanda non parte come ho detto anche fra il terreno grandi favorito e probabilmente il semifinale non ci arriverà però io ce la vedo perché sorpresa per le caratteristiche della rosa e tutto secondo me il semifinale può arrivarci io ho le mie quattro semifinaliste ben fisse in testa e per cui non c'erano l'altro tanto le mie ma anche le vostre chiaramente ragazzi e in queste quattro non c'è posto per l'Olanda che nonostante tutto la vedo ai quarti di finale fino ai quarti ci arriva nel 2021 veni eliminati in maniera beffarda dalla Repubblica Sceca ricordati con un clamoroso fallo di delitte di mano che diede rigore a cuore dei cechi insomma non vedo un arachiri insomma da parte degli orange sperando che comunque Coman ci metta un pochino più del suo ecco perché comunque ha portato questa squadra in semifinale di National Sling nel 2019 l'ha aiutata a qualificarsi per gli europei del 2020 col bracelolano l'ha fatto benissimo quindi insomma sono curioso anche di vedere la sua gestione 2.0 con questa squadra prima del pronosticone finale ragazzi volevo andare un attimo sull'altro Zayda c'è qualche altro nome belgio come lo vedete aggiungere l'altro Zayda sullo stesso piano dell'Olanda quindi inferiore e spavorita dovesse beccare una delle 5 in una eliminazione diretta però una buona squadra secondo me da non sottovalutare Ale come ne hanno sono d'accordo io lo vedo un passettino indietro rispetto all'Olanda ha iniziato in questi ultimi anni in cambio generazionale il belgio perché non è più quello dell'anno 2018 sta cambiando tanto non ha ancora trovato gli uomini giusti in difesa insomma è quello il grande punto di questa squadra non tanto l'attacco che è pieno di abbiamo capito che le squadre europee in attacco sono a posto esatto non è l'Italia se lo più farà tanto la differenza la difesa secondo me perché appunto non tutte sono proprio al 100% in quale reparto il belgio non è sicuramente tra le squadre più complete da dietro favoriti a meno rispetto al 2021 non ha mai rispettato le attese o quasi però la Golden Generation è conclusa comunque oramai da tenti diciamo che adesso vogliamo già sbilanciarci sul tabellone di questa squadra la vedo agli ottime a massimo la vedo un po' incompleta la mia generazionale ancora non è concluso a giocatori di sinist picco davanti che comunque stanno facendo bene i classici Lukaku De Bruyne che alla fine parleremo sempre di De Bruyne sì però comunque non la vedo una squadra né completa né tanto meno reguigliosa ecco quindi non sono assolutamente d'accordo sì ottavi quarte poi dipende dall'accoppiamento degli ottavi vedendo il girone penso passerà per primo un accoppiamento degli ottavi abbastanza favorevole poi parte appunto dovesse incontrare una tra Francia Germania Porto a fare vela peggio secondo me sì quindi insomma abbiamo bocciato come l'Outsider is velge a questo punto ragazzi andiamo al promostipone finale voglio sentire anche da parte poi fare un piccolo giro su quale sarà la vera outsider allora di questa convenzione se non è il belge chi allora chi vedete la squadra rivelazione di Euro 2024 ma io raccontando che oso sempre nelle nelle nostre premissioni io ti dico l'Ungheria tra domenata no no anch'io l'avrei citata perché vedendo anche in giro secondo me può giocarsi il secondo posto con la Svizzera ed è una bella squadra con un buon allenatore se sei anche io non so se vuoi aggiungere altro sull'Ungheria no è ben allenato qua la differenza era far proprio l'allenatore secondo me che ha trovato la giusta meccanica in questa squadra che ormai da due o tre anni sta facendo benissimo e in giro secondo me è molto complicato appunto Germania Svizzera e non sottovaluto neanche la Scozia che ha fatto un ottimo turno di qualificazione però avendo leggermente avanti l'Ungheria rispetto alla Scozia appunto si giocherà il secondo posto con la Svizzera se te ne devo dire un'altra ti dico magari la Tonchia in giro non impossibile se va a Portogallo che arriverà prima in giro comunque c'è la pubblica circa la Georgia quindi in giro ne è assolutamente alla portata anche qua piena fiducia in Montella che secondo me ha fatto un ottimo lavoro potrà fare un ottimo lavoro e in la Tonchia da una tre quarti in su un'ottima squadra tanto talento una squadra che potrebbe divertire io sono solo a Tonchia e mi trovi pienamente d'accordo per l'extro per la fantasia comunque perché il gioco di Montella si è rivelato vincente anche a livello di Vela ne ho visto altra sera contro l'Italia quindi è la mia prima ozai della seconda di con la mia svizzera perché comunque una squadra che ha aperto non dico un ciclo però da quando comunque è arrivato Iakin si è rivelato coraggioso in certe comunicazioni comunque sempre presi in considerazione anche da diverse squadre del campionato svizzera senza andare comunque nel dettaglio però è comunque un allenatore che si è rivelato capace di prendere e attingere comunque risorse anche non scontate rispetto ai grandissimi senatori a giocatori che comunque questa nazionale la conoscono molto bene che ci sono da tempo come Ciacca e Shakiri due miei brava tra tutti Capitan Sommer anche quello per esempio del Borussia Dortmund e comunque una squadra che si è rivelata ostica si è rivelata tosta dipende un po' da approccio mentale che scende in campo comunque la Svizzera può tirarsi giù immediatamente nel momento in cui la partita si mette male ma come contro la Francia si è rivelata un grande spirito di gruppo nei suoi interpreti e comunque delle ottime risorse in ogni caso anche dalla panchina e giocatori che come per esempio Cafor non hanno disputato una stagione grandiosa è vero che però secondo me comunque potranno rifarsi in questo europeo ha un girone con Scots in Ungheria e Germania secondo me è un impossibile l'Ungheria concordo con voi è un outsider però secondo me è battibile dipenderà un po' come iniziano entrambe di fatto la fase a gironi però nel momento in cui si va in ottavi quello ci deve essere un incrocio per esempio con l'Italia che è possibile nel caso l'Italia finisse terza finisse comunque dico la Svizzera per compattezza e per insomma idee e solidità di reparti comunque non ha stelle non ha fenomeni però comunque ha giocatori secondo me che nel collettivo messi all'interno di un gruppo guidato da Jakin può fare può dire veramente la sua quindi dico la Svizzera una squadra che delude una squadra che delude io partite voi dai partite e ti dico la Serbia ma me l'hai anticipata ma se io invece la Serbia non la vedo messa così male so secondo me già anche l'ultimo mondiale ci si aspettava potesse fare il quente sui procurati e invece si è sopravvalutata si un Nitrovic Milinkovic che sono andati in Arabia un Tadic che di fatto sta giocando in Turchia quindi sei d'accordo che non farà bene no io invece la vedo sottovalutata rispetto agli ultimi anni la mancanza di pressione potrebbe fare un buon europeo non so non è neanche un giro troppo semplice per finire con l'Inghilterra da Danimarca che la vedo un passettino un po' più avanti è una cosa che non mi piace proprio della Serbia e l'organizzazione difensiva sia a livello di nomi sia proprio per come sistemata in campo questo 3-4-2-1 3-5-2 è completamente squilibrato e la dietro mi va feso una squadra che si ha espresso secondo me molto meno rispetto all'effettivo potenziale quello si guarda un contamento però mi ha seduto troppe volte e poi ha abbandonato questo nazionale comunque almeno con i nomi sulla carta quindi non convince neanche a me non so se potremmo definire la delusione in realtà perché comunque alla fine sono tante aspettative però sì sì chiaramente però non mi aspetto un grande europeo la denunzione forse è un ennesimo della Polonia non mi aspetto nulla è davantoschi a rischio tra l'altro con tutto l'attacco ormai in infermeria questa squadra non ha mai convinto in queste competizioni nonostante appunto i grandi nomi e la vedo addirittura a fare i gironi se anche i latani io sono d'accordissimo e anche la d'animata la serba potrebbe avanti sì potrebbe un punto parte sfavorita chiaramente però potrebbe la Croazia ragazzi no no Croazia sono sempre i soliti nomi con ogni competizione due anni in più non deludono mai c'è Penesic che ha recuperato da lì sì sì non ci sono forti da titolare sono sempre quei nomi fortissimi sulla carta ma sempre con due anni in più ogni competizione quindi non lo so il blocco è sempre lo stesso quindi se con l'interno dello squadra che ha la tour è sempre Dalic non è una squadra che mi ha sottovalutato come sono connotati ecco se il bench può essere una novità per uomini è tutto a Croazia sempre a Croazia si troverà esatto che comunque può essere ostica all'interno del girone guone a door di questo europeo che si porta a casa al pallone è Harry Kane io dico Harry Kane sì sì forse come le pochi nove rimasti in Europa dalle varie nazionali io ti dico un 7 ti dico un altro se ne sarà titolare dai gironi fino all'ipoder a finale sono i titi di Ronaldo io vedo un giro che prima di chiudere la sua avventura in Europa perché l'ha già promesso sposa l'MLS farà un grande un grande campionato l'Europa con il titolare il titolare lui le risorse d'attacco ce le ha i palloni gli arrivano e come di quelli di Giroud capocannoniere di questo Euro 2024 e se non ce ne sono altri ragazzi andiamo al pronosticone finale e poi chiudiamo le quattro semifinaliste dobbiamo dire anche la vincitrice poi questo punto ragazzi diremo fuori tutti i giorni ci li sentono tutti per le amichevoli e la pausa di marzo datoci appuntamento proprio a questo giorno quindi io da un lato vedo Germania e Portogallo dall'altro Francia e Inghilterra con Germania e Inghilterra con la Germania che vince in casa Germania e Inghilterra con la Germania che vince no è l'altra volta io ti dico le quattro semifinaliste Portogallo Francia la Germania e l'Olanda con tra queste quattro il Portogallo che se lo porta a casa forse andiamo a loro campagna in Europa allora io vi dico io mi immagino con un derby iberico Spagna-Portogallo e dall'altra parte del tabellone non mi metto la Germania che come ho detto all'inizio di questa puntata andrà con i quarti io vedo Inghilterra e Francia in remake della di quattro in finale di Qatar 2022 e da queste due vedo andare in finale l'Inghilterra dall'altra da una parte il Portogallo dall'altra quindi in finale Inghilterra Portogallo con gli inglesi che triunfano a Webley o voglio eh scusate a Bernino l'Apsos però mi immagino l'Inghilterra finalmente trionfante voglio vedere l'Inghilterra trionfante voglio vedere i kink che sollevano il trofeo e secondo me hanno tutte le carte regole per poterlo fare voglio immaginarla così alla fine vincerà la Francia che non vede un assieme tra ho porto proprio in mente abbiamo evitato la strafavorita però ma sì la bella vediamo così quindi Portogallo Germania Germania e Inghilterra a questo punto beh la stessa che aspettare ci resta non ci resta non ci resta che aspettare lì si parte esatto con Germania-Scozia e che dire ragazzi buona Europa a tutti quanti e ci ritroveremo qua per discutere un po' anche in questo caso chi ne ha azzeccato nessuno possiamo dire precedenti poi ne ha evitato ovviamente speriamo gli itali anche in questo caso anche qui da un piccolo pensiero sull'Italia secondo voi come è il cammino la vedo sul piano di Olanda Belgio se devo metterla in una gerarchia quindi sfavorita nel momento in cui incontrerà però in cui dovesse incontrare grandi top servirebbe e servirà in quel momento una partita perfetta una partita di gruppo di cuore come abbiamo visto tre anni fa a mano in cuore ti dico quarto ottavo di finale non riesco a avere o quarto ottavo di finale quarti già sarebbe perché ora vedete gli ottavi al master sono egipto non riesco a vederla oltre purtroppo in Italia è indietro rispetto alle altre manca quel top player che le altre hanno per me è proprio indietro nel processo di crescita come in questo paletti anche qui come Nages manda troppo poco tempo sulla panchina della nazionale è una mancanza di un giocatore che dia la scocca in più la marcia in più le possa dare in più vedremo siamo in chiusura io ringrazio Alessandro Spiniello grazie a te e grazie a tutti da parte di Giacomo Astromarino è tutto grazie mille per essere stati con noi buono europeo a tutte e a tutti noi ci rivediamo la prossima puntata con Euroboard tutto meglio che c'è dal calcio internazionale ciao ciao